buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv ebbene oggi iniziamo insieme la nuova settimana è lunedì 13 maggio 2024 e oggi ci festeggia un grande avvenimento un grande avvenimento che avvenne il 13 maggio del 2017 ovvero l'apparizione della beata vergine maria di fatima la madonna apparve a tre pastorelli nella piccola nel piccolo paesino di fatima in portogallo apparve a lucia a francesco e a giacinta tre ragazzi di 10 9 e 7 anni il suo volto era molto bello hanno detto e dalle sue mani giunte pendeva il rosario l'apparizione fu riconosciuta dalla chiesa e fatima in breve è diventata uno dei più importanti e famosi santuari del mondo ancora oggi molto meta di tanti tanti pellegrinaggi e anche di qualche fatto sorprendente che accade ogni tanto ebbene con un pensiero rivolto alla beata vergine maria di fatima procediamo ora alle previsioni del tempo per la giornata di oggi ebbene dopo la bellissima giornata di ieri praticamente estiva torna un po di instabilità sulle marche un aumento nelle aree interne di nuvolosità con possibili rovesci e locali temporali e temperature sono stazionarie sono calde nella provincia di pesaro oscideranno tra i 15 e i 23 gradi e poi l'escursione si fa un pochino più accentuata mano a mano che si scende verso il sud della regione in ancona 16 26 gradi a macerata 18 26 mentre ad ascoli piceno l'escursione va dai 14 gradi della minima ai 26 della massima i 20 i 20 con una tensione debole sulle coste espireranno da est sud est mentre nell'interno da sud sud ovest il mare è calmo ebbene dopo le previsioni del tempo possiamo subito passare alla lettura dei giornali iniziando dalla pagina iniziale del resto del carlino dove c'è il sunto di tutte le notizie pubblicate nelle province marchigiane vediamo subito quella di pesaro abbattuto l'ex chief al suo posto nascerà un nuovo condominio l'ampio edificio abbandonato da tempo ora vede i lavori al via sono previsti circa 30 appartamenti al suo posto e poi ovviamente non si può non parlare della campagna elettorale abbiamo le spese elettorali che vengono dichiarate dai candidati che offrono la possibilità di un'argomentazione all'interno dei giornali di questa mattina mentre a fano giornata splendida dicevo tante le iniziative aspettando il giro d'italia e tra queste è stata connaturata di rosa anche la camminata la camminata in rosa che ha così acquisito più di mille partecipanti veramente un successone a voi c'erano anche tante altre iniziative ieri nel centro storico di fano vediamo ancona ad ancona un incendio un incendio una coppia intrappolata all'interno dell'abitazione accaduto a castelfidardo una tragedia sfiorata durante la notte e poi si parla di politica perché il sindaco di pesaro matteo ricci ha aperto una sede per le elezioni europee proprio in quel di ancona e ovviamente ha attaccato la giunta a quaroli responsabile di non aver soprattutto centrato gli obiettivi in tema di sanità movida selvaggia controlli in centro contro droga e vandali ma questa è un'operazione che ormai è abituale in tutti i weekend perché proprio nei fini di settimana si concentrano gli abusi gli eccessi appunto di questo settore ad Ascoli Piceno un incidente finisce con lo scooter contro una casa morto purtroppo un quarantenne a san benedetto tante le famiglie protagoniste via rifiuti dalla sentina mentre ad Ascoli a Ascoli scontri di carattere sportivo anche se questo aggettivo insomma non si addice a questo genere di cronaca comunque è così Ascoli scontri dopo la partita pericolo sottovalutato e poi a Spinettoli a Spinettoli ci sposiamo però niente bomboniere questa è una bellissima iniziativa fatta da una coppia di sposi che impiega i soldi che dovevano servire per l'acquisto delle bomboniere per donare un gioco a un parco a un parco pubblico a un parco dove giocano i bambini vediamo anche macerata macerata la città in festa per la riapertura di Villa Cozza mentre in corso a Cairoli spraya il peperoncino tra i tavoli panico in un locale e a Civitanova litiga in strada e aggradisce poliziotti arrestato un uomo vediamo ora le notizie che vengono sviluppate all'interno del resto del Carlino vediamo subito la campagna elettorale i costi della campagna elettorale ebbene la curiosità di molti elettori è ma quanto spendono questi candidati per così coprire la città di manifesti fare degli spot insomma promuovere la propria candidatura ebbene al momento non ci sono costi perché perché ancora nessuno ha pagato nulla pagheranno pagheranno la fine della campagna elettorale perché bene o male le città pesa rofano ma anche nell'entroterra sono pieni di manifesti e i manifesti prima o poi devono essere pagati allora diamo un'occhiata a questo articolo campagna elettorale senza costi senza costi bisogna metterlo tra virgolette lo mettiamo subito eccolo qua biancani lanzi ovviamente sono i due candidati principali della città di pesaro centro sinistra e centro destra che si confrontano ma ce ne sono altri e altri dichiarano zero nel bilancio di previsione delle spese elettorali spuntano solo nulla tenenti il pd impegna 18 mila euro eppure risulta che bene o male dovranno dovranno spendere vediamo poi le dichiarazioni andrea biancani questo è un preventivo ma col rendiconto metteremo tutto lo prevedo io prevedo di spendere personalmente con i soldi miei tra i 15 e i 20 mila euro abbiamo scritto zero al momento perché ancora non abbiamo pagato niente a nessuno ma lo faremo lo faremo marcolanzi 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 dice chi tiene i conti non ha ancora pagato niente e quindi avrà messo zero per questo ma ci costerà e come arrivano anche i contributi dai sostenitori io credo che dovrò spendere un costo mio di 20 mila euro circa e risulterà nel rendiconto finale quindi verso a poco insomma abbiamo capito che sia nel centro destra che nel centro sinistra la campagna elettorale costerà ai candidati una volta pagavano i partiti adesso invece che si propone paga di tasca sua la maggior parte che poi ovviamente qualche soldo gli arriverà senz'altro da sostenitori da sponsor da aziende via dicendo ebbene è 20 mila euro la terza candidata pia pericci della lista vieni oltre ha già preventivato una spesa complessiva di 6.258 euro ottenuti con delle quote versate dai sostenitori e beh insomma questa è stata quella che ha già dichiarato qualcosa i grillini hanno versato 990 euro su 1116 di spesa solo per pagare i certificati penali dei propri 25 candidati 990 euro insomma anche le elezioni costano costano parecchio ed ora diamo un'occhiata all'abbattimento dell'ex chief che è stato richiamato in prima pagina ora questo immobile storico della città di pesaro è solo un ricordo abbattuto uno stabile che era in rovina ci faranno un condominio un condominio l'impresa ed il giorgini di montecchio sta per avviare la costruzione di un edificio a fronte via colbe per circa 30 appartamenti appartamenti quindi quella cartolina di beirut che è stata pubblicata per tanto tempo evidenziando il degrado di questo stabile ora cambierà con un'immagine un'immagine più qualificata ovviamente un edificio nuovo anche se è un edificione perché 30 appartamenti sono veramente tanti insomma questo dovrebbe essere il progetto lo vediamo qui in questa foto verticale dovrebbe essere il progetto che sostituerà l'ex chief arcieri figuranti con trade sfide trionfo vero il carnevale bellissima la manifestazione di fossombrone che gli si chiusa ieri sera in grande spolvero una rivocazione storica che riunisce in un colpo solo cultura storia spettacolo divertimento il trionfo ha la sua origine nel lontano 1559 ed è merito della città di fossombrone averlo riproposto con quel calore che solo una adesione massiccia della gente quindi una adesione popolare può costruire può addurre ma il clou di questa manifestazione sono senz'altro i giochi e tra questi soprattutto spicca la corsa dell'anello che è stata vinta dalla contrada di san giorgio con 50 punti a seguire il castello di monte felcino con 41 punti poi sant'antonio 41 punti era la contrada vincitrice della scorsa edizione villa di san martino 39 san rocco 34 villa di calmazzo 30 santa maria 28 san maurenzo 23 villa di ghilardino 21 castello di isola di fano 12 e insomma via via fino alla fine tutti i concorrenti che sono disputati quindi vediamo prima della partenza pronti a infilare con la loro asta l'anello e ci vuole veramente un'abilità e un senso di precisione e che non tutti hanno e quindi questa è la destrezza di questa bella di bet di questa bella bella gara vediamo ora la camminata in rosa che si è svolta a pesaro un'altra grande manifestazione che ha ottenuto una massiccia adesione oltre mille le persone al via in favore della prevenzione è stata anticipata questa gara che di solito si svolgeva nel mese di ottobre ora invece si è svolta nel mese di maggio inserendola in quelle che sono tutto in quelle che sono le iniziative di aspettando il giro d'italia e rosa ovviamente si intona con il giro d'italia perché tutto è rosa oggi a fano oltre mille persone hanno partecipato ieri mattina la versione primaverile della camminata in rosa che è stata organizzata dall'assessorato alle pari opportunità protesta protesta a tiziano busca per non essere stato invitato ad un incontro organizzato dalla cgl per quanto riguarda le elezioni europee un incontro che si è svolto nella che non si è svolto si svolgerà oggi alle ore 15 all'hotel flaminio di pesaro il sindacato sp cgl promuove un incontro con i candidati alle elezioni europee tra i candidati c'è anche busca per la coalizione stati uniti d'europa ma non è stato invitato una dimenticanza beh busca dice chiedo proprio di no pensavo inizialmente che fosse stato un disguido ma poi ho capito che le ragioni sono soprattutto politiche non riguardano la mia persona ma la presenza di italia viva nella coalizione e quanto riscontrato nelle imbarazzate motivazioni di alcuni dirigenti sindacali insomma una esclusione che non avrebbe dovuto esserci secondo secondo tiziano busca che ricordiamo fa parte a fano della coalizione dei progressisti ricci lancia il guanto di sfida acquaroli venga con me in tv parte la riscossa delle marche il sindaco di pesaro ieri in ancona candidato all'europea ha inaugurato la sede elettorale attacco frontale alla regione quello che fanno inconsistente danni sulla sanità e sull'aeroporto sono i due punti deboli della giunta acquaroli e l'attacco fa palazzo raffaelli alla giunta regionale da parte di ricci ha toccato alcuni punti decisivi a partire dal ruolo della città da lui amministrata nell'anno della capitale della cultura pesaro danneggiata ha avuto poche poche sostanze pochi fondi dalla regione per questo importante avvenimento che con un veramente disegno lungimirante ricci ha condiviso con tutti i comuni del territorio i quali ogni settimana si associano a capitale di pesaro e anche loro fanno parte della capitale della cultura ed è stato veramente un progetto lungimirante un progetto che ha sollevato l'entusiasmo anche delle popolazioni dell'entroterra e quindi questa è stata una cosa molto molto importante chiudiamo chiudiamo il resto del carlino e vediamo il corriere adriatico ecco qua la prima pagina acquaroli ci vediamo in tv è la sfida lanciata appunto da matteo ricci che appare nella foto notizia in prima pagina e poi abbiamo tutte le altre notizie di che sono nell'entroterra che sono nelle nelle pagine all'interno e vediamo subito quella di fano cresce l'occupazione ma non basta il 50 per cento delle richieste finisce a voto ed è un'indagine che è stata fatta all'interno del centro dell'impiego di fano quello in via de cupis nei pressi di piazza 20 settembre ebbene ha rilevato i dati e fatto le sue considerazioni il direttore del centro per l'impiego gianluca vergari e vediamo come anche a fano come del resto in tutta italia cresce l'occupazione cresce l'occupazione e in maniera costante dopo che il periodo del covi ha costituito una cesura nel modo appunto di trattare questo importante portante settore della vita pubblica che cosa è accaduto dopo il covi è accaduto che le aziende invece di assumere così in maniera diciamo indiscriminata anche se questo questa parola non è proprio esatta la forza lavoro cerca di sintonizzare la propria produzione con le aspettative e le proprietà delle persone che aspirano ad un posto di lavoro insomma tu vuoi veramente venire nella mia azienda tu vuoi veramente fare questo lavoro se sì ebbene la porta è aperta altrimenti ti cerchi un'altra occupazione questo è il modo di procedere che è cambiato rispetto a quello che accadeva precedentemente all'avvento della pandemia quindi la pandemia ha costituito un po una cesura tra un modo di procedere nell'occupazione del lavoro comunque a fano nell'entroterra nel comprensorio di fano l'occupazione è aumentata e ci sono infatti nell'ultimo anno ci sono stati mille un milione 700 mila contratti di lavoro in più rispetto all'anno precedente 500 mila in più rispetto al periodo pre covi questo però è il dato nazionale a cui anche a fano si configura e vediamo anche qui dei dati dei dati che sono stati pubblicati e i primi dieci avviamenti al lavoro rilevati nel 2023 perché poi il consuntivo si fa nell'anno che è appena terminato sono stati in testa le assunzioni per quanto riguarda gli esercenti di attività sportive 1909 segue il personale non qualificato per le attività industriali assimilate 929 posti di lavoro un aiuto cameriere di ristorante 907 856 un bracciante agricolo 703 il barista 664 il manovale 650 badante 631 aiuto cuoco nel ristorante 621 gli impiegati amministrativi 589 gli insegnanti di sostegno vedete come la composizione il panorama delle assunzioni è molto vario si tratta soprattutto di configurare di completare di sintonizzare diciamo meglio ancora le aspettative delle aziende le necessità delle aziende con le diciamo così con le propensioni di attività che nascono all'interno della domanda e qui c'è l'ufficio dell'impiego che fa da tramite e quindi svolge un ruolo importante sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico torniamo torniamo alla campagna elettorale la cultura è l'elemento trasversale a tutte le politiche e proprio questo tema sarà trattato questa sera all'ore 21 al cinema masetti dal candidato sindaco marchegiani candidato sindaco dei progressisti e la cultura è veramente un tema che è congeniale a stefano marchegiani che ha assolto anche l'incarico di assessore alla cultura nella giunta a seri e poi è un uomo dalle mille risorse è un insegnante di storia e dell'arte quindi ha una facilità del luogo veramente suggestiva e accattivante vediamo ora le liste sabato sono state presentate due liste una da parte delle civiche noi civiche la coalizione di etienne lucarelli e l'altra è quella di bene comune di cui portavoce e luciano benini allora lucarelli e noi civiche fa riferimento a cristian fanesi candidato sindaco del centro sinistra mentre bene comune fa riferimento a stefano marchegiani perché bene comune insieme ai 5 stelle hanno aderito alla coalizione dei progressisti vessillo del nuovo civismo la forza del nostro gruppo è il civismo ha dichiarato barbara brunori nell'introdurre la presentazione della lista di noi civiche appunto che fa che è cappeggiata da etienne lucarelli un civismo che propone un rapporto un rapporto molto stretto e costante con la cittadinanza insomma dovrebbe essere la cittadinanza a dare le indicazioni gli input per quanto riguarda la strategia per così governare la città di fano mentre mentre bene comune si propone come l'alternativa per chi non vuole andare a votare e c'è veramente il preoccupazione di una grande astensione nelle prossime elezioni amministrative per cui bene comune dice piuttosto che non andare a votare votate noi perché noi faremo interpreti saremo i vostri portavoci e i portavoci nella coalizione che governerà la città di faro i progressisti si presentano con un messaggio contro la distanza politica vogliamo veramente farci da tramite tra la cittadinanza e chi governa la città di faro veniamo ora la valcesano nella valcesano abbiamo il candidato si tratta di domenico carbone attuale consigliere comunale di opposizione che si candida al ruolo di sindaco di san costanzo carbone in direzione futuro e questa la coalizione con una squadra di giovani corsa a tre dunque nel comune di san costanzo per la guida dell'amministrazione allora quali sono i candidati sono l'assessora uscente michela volpe che sfida l'imprenditore vitivinicolo noto a tutti davide bruscia e poi c'è domenico carbone attuale consigliere comunale di opposizione quindi si fa ancora più interessante la sfida elettorale nel comune di san costanzo scatta l'allarme a piano marina a marotta dove si è notato una figura inquietante si è detto che era un lupo in realtà dovrebbe essere un pastore cieco slovacco che assomiglia a un lupo però è sempre un animale randaggio e certo non è bello lasciarlo libero vediamo anche il senigallia l'ex asilo delle mimose va all'era due piani in meno e solo 18 alloggi ebbene che cosa è accaduto è accaduto che è stato autorizzata la vendita di questo ex asilo la mimosa per farne delle case popolari si tratta di un contratto che è stato calcolato per 640 mila euro è stata accordata la cessione da parte del comune dopo che l'era fa rinunciato a due piani della palazzina che ha intenzione di realizzare riducendo l'altezza dell'edificio che passa da 7 piani a 5 piani c'è da un'altezza di 22 metri a un'altezza di 16 metri inoltre è stato consentito a diminuire il numero degli alloggi da 22 a 24 a 18 e quindi si faranno meno case siamo in conclusione terminiamo la nostra rassegna stampa evidenziando anche sul Corriere Adriatico Ricci ad Ancona lancia il guanto di sfida ad Acquaroli e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto e a risentirci